Si può pensare che cosa c'entra la Costituzione con gli immobili? Nulla, nulla. E invece ci sono almeno due articoli importantissimi della Costituzione che riguardano gli immobili. Il primo è sulla proprietà, l'articolo 42, perché noi sappiamo che la proprietà è uno dei diritti più fondamentali degli stati moderni e contemporanei, sacra e inviolabile nell'impostazione della Costituzione francese, intoccabile in ogni modo nell'impostazione del Codice Civile del 1865. E poi abbiamo l'articolo 47, perché l'articolo 47, articolo meno conosciuto, è quell'articolo che ci parla di risparmio e proprietà dell'abitazione. Perché la Costituzione in questa era lungimirante proprio sulle due gambe possibili della proprietà immobiliare. L'articolo 42 che riguarda anche la grande proprietà e l'articolo 47 che invece riguarda la piccola proprietà. E questi sono due binari fondamentali, perché riporto, ecco, torniamo a 75 anni fa, perché la Repubblica, notate, la Repubblica, quindi tutto lo Stato in tutte le sue formazioni deve favorire l'acquisto della casa, perché ogni famiglia deve avere un'abitazione sana e indipendente. È una finalità costituzionale questa, che diventa ancora più importante all'epoca dell'inflazione. Perché qui che poi va a porti tutti i problemi sui mutui, i tassi, le agevolazioni, perché la Repubblica deve garantire una casa a tutti al piccolo risparmio. E la Corte Costituzionale ce l'ha ripetuto tante volte, la Corte Costituzionale ha fatto circa 20.000 sentenze nella sua storia, però ve ne ho portate le principali. La casa, bene primario, l'abitazione dignitosa, diritto fondamentale della persona, dovere da parte della collettività intera di impedire che le persone possano rimanere prive di abitazione. Quindi c'è un'importante radice costituzionale all'immobiliare e al diritto immobiliare nelle sue due diverse gambe, nelle sue due diverse grande proprietà, piccola proprietà. Ma c'è anche un'altra questione che si collega all'articolo 42 e non l'ho messa neanche nelle slide, perché le slide le ho fatte quattro giorni fa. Gli affitti brevi. Avete letto che c'è l'idea di presentare un disegno di legge che dovrebbe limitare gli affitti brevi. Un numero massimo di notti, un numero massimo di appartamenti, le stanze sì, le stanze no, a seconda delle famiglie, l'imprenditorialità. Tutto questo è conforme alla Costituzione. Bisogna guardarlo con attenzione, perché la Costituzione garantisce la proprietà e vedete l'ultimo pezzettino, l'ultimo comma, la proprietà può essere espropriata, limitata, però a due condizioni, nell'interesse generale è salvo indennizzo. Quindi io sono libero di disporre della mia proprietà, conformemente alla legge ovviamente, e se mi viene compressa la proprietà, mi viene limitata la proprietà, serve l'interesse generale? Quindi prima domanda, è di interesse generale dire che io che ho un appartamento che affitto lo posso fare solo per due notti, tre notti, cinque notti? Prima questione. Seconda questione, salvo indennizzo, perché diventa un vincolo espropriativo, io non sono più padrone liberamente della mia proprietà e quindi lo Stato si fa una cosa del genere e dire benissimo, io ti limito al terzo giorno, però poi ti do 100 euro. Quindi vedete, la Costituzione che sembra qualcosa di così lontana, così alta, no? Le parole italiane sono di fine 46, diventa sempre un punto di riferimento anche sui problemi più attuali. per questo mi diverto ad andare nei luoghi più incredibili a parlare di Costituzione, perché la Costituzione sono i binari del nostro ordinamento. Mi era stato chiesto di essere più breve per recuperare i tempi, quindi vi ringrazio e leggiamoci tutti la Costituzione quando si può. Grazie.